Hai visto qualcosa? Dingle, che cosa hai visto? Buona giornata. Voglio restare con te. Giochiamo stasera, va bene? Sono qui! Veloce, veloce, veloce! Perché fanno così? Non lo so. Non lo dire a nessuno. Cosa c'è tra lei? Che cosa hai detto? Ma ti voglio aiutare. Non ti ho chiesto niente, vattene. Se ti fai ancora gli affari mie, sei morta. Guarda davanti a te. Sono sicuro che voi quattro farete in modo che d'ora in poi tutto fili liscio. Se avete dei problemi, devi dirmelo, d'accordo? Quando si aiuta le cose vanno peggio. Anela! Non sempre si possono aiutare gli altri come vorrebbero essere aiutati.